E benvenuti a tutti a questo nuovo vlog Ok ragazzi Ho delle notizie belle e notizie brutte veramente E anche altre cose quindi Vi iniziamo subito con le brutte notizie Allora Io stavo cercando di abbonarmi con i spots Ma purtroppo non sono riuscito e Ho dovuto cancellare i dati degli spots Quindi tutti i giochi che ci sono sopra Anche Quindi l'essere come Gears Fluidus Arsenal Cazzini umani E Batman Degli spots Sono tutti da rifare Ma Fortunamente Con Batman sono già al punto dove Dove Mi ho fermato Quindi con Batman tutto a posto Mentre purtroppo con A cazzini umani E A Acmen Looney Tunes E Gears Purtroppo è Tutto da rifare E È abbastanza Lungo All'evalo Dove mi interroggio con questi giochi Ma Per fortuna Ho Già Un episodio pronto Di Looney Tunes Acme Arsenal E Di Due episodi di Gears Quindi Però sono a posto Finchè non ritorno a quel punto Bene E adesso passiamo Ai acquisti Della settimana Gli acquisti Della settimana Che ho fatto Sono Mortal Kombat De Deception Paper Season 2 Come vedete Anche il disco È molto Figo Con questo Sono A posto Con la collezione Perché ho anche Mortal Kombat Alleanza Mortale Che ve l'ho fatto vedere In un altro Frog O forse In un altro Speciale Non ricordo Bene Poi Mi sono preso Wanted Appone Of Fight Fate L'ho comprato A 7,99 Pochissimo L'ho provato E È proprio Bello Somiglia Un pochino Per certi versi A Tom Crane 6 Sprintzel Con Vision Quello che ho Per certi versi Somiglia un pochino Uguale E Bene Ora Voglio dirvi una cosa Per chi Vuole essere Sponsorizzato Da me Chi vuole esserlo Scrive nei commenti Sponsorizzami Ok E io Lo sponsorizzerò Bene ragazzi Dire che per questo È tutto Quindi ci vediamo Nei prossimi Video E vi amo a tutti voi Una bella giornata Anche se Negli ultimi giorni Di belle giornate Te ne vedo Orale Ciao Ciao!